E qui siamo dentro Villa Olmo, non l'avevo mai visitato dentro, guardate un po', qui è un po'. Guardate che bella. Eccoci. Un po' e che c'è? C'è un caminno. E qui c'è? E qui c'è? E qui c'è? E qui c'è? C'è un caminno? E qui c'è un caminno? Grazie.